Nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino, stamattina si è tenuta una cerimonia di benvenuto per gli studenti e i ricercatori stranieri presenti nella nostra città grazie al programma Erasmus ed altri programmi di mobilità. Organizzato dal CEIC Europe Direct del Comune di Napoli e dalla rete studentesca di Erasmus Napoli, l'incontro è stato aperto dal Sindaco di Napoli, seguito dagli interventi dell'Assessore alla Cultura del Comune, dell'Assessore all'Università e Ricerca della Regione e dei Rettori e dei Rappresentanti delle Università Cittadine. È stato un momento utile per fornire ai giovani informazioni sulle opportunità di studio e di formazione, sull'offerta culturale e sui servizi al cittadino che il Comune di Napoli è in grado di offrire loro. Ai partecipanti, circa 400, è stata anche offerta una visita guidata gratuita dei musei della città. Troppi giovani se ne vanno via da questa città, invece noi dobbiamo invertire la tendenza, non solo dobbiamo evitare che i nostri giovani se ne vadano, ma dobbiamo far venire giovani come voi qui, che magari si innamorano di questa città. Quindi benvenuti a Napoli, divertitevi, vivete questa città e spero che potete portare un'immagine per sempre di una città che io amo profondamente e considero una delle città più belle. Noi piace molto molto Napoli perché è la città bellissima, oggi ci sta una festa per i studenti Erasmus. Io preferisco Napoli, Napoli è un po' diversa, somigliamo a Marsiglia 50 anni fa e è questo che volevo scoprire quando sono arrivato a Napoli. Io auguro a questi ragazzi davvero di capire che Napoli è davvero una città grandiosa, stupenda e che possono esprimere meglio la loro cultura e anche interfacciarsi con un mondo che è totalmente diverso dal mondo.